Pavone, lui è uno splendido Pavone, di Pavoni. Tutto torna, nobili. No, vabbè, Bandiera Rossa è una canzone gloriosa, sicuramente tanta gente ha della passione quando la canta, non è la nostra canzone, non è la nostra storia, paradossalmente è la storia di Salvini, che come sapete ha cominciato con i comunisti padani, prima di finire a chiedere i pieni poteri mussoliniani. Nella nostra stagione di governo i diritti dei lavoratori si sono tutelati col Jobs Act, 1.200.000 posti di lavoro nuovi in Italia e l'Italia che cresceva, mentre con 14 mesi Salvini al governo d'Italia ha perso posizioni nel mondo, in Europa, non è più cresciuta e ha perso la loro... Certo, certo, del governo giallo-verde. Questo governo dovrà fare tutto il contrario di quei 14 mesi. Quindi smontate anche il dignità? No, voglio capirlo per portare avanti nel film. Noi non siamo abituati a smontare quello che fanno i governi precedenti, perché... Quindi il paese non va avanti. Certo bisognerà fare in modo che i danni di quelle misure siano formati, e bisognerà fare in modo che chi... Se quella roba è dannosa sei un mona, sei davanti. Il dignità ha fatto perdere un sacco di posti di lavoro. Allora, il credo di smontare, è un problema, è un problema, è un problema. Devo correggere gli effetti, questo è poco ma sicuro. Nobili, due punti, si smonta il dignità. No, una cosa la voglio dire, perché Paragoni ha ragione su un punto. La faglia che ci divide, che divide il primo governo Conte dal secondo, e che per noi è fondamentale, è questa. Il governo Conte 1 è stato il governo dell'isolamento in Europa e nel mondo dell'Italia. Salvini non solo non parlava e non si presentava in Europa per parlare con i suoi odiati nemici, che si chiamassero Merkel o Macron. Salvini in Europa era spernacchiato dai suoi alleati sovranisti. Salvini non ha ricevuto solidarietà da Orban, da Kurz, da quelli con cui andava a braccetto, è finito isolato in Europa. Questo governo è il governo che ci riporta in Europa. Però se ogni tanto rispondete anche a qualche domanda interessante. E che ci consente di costruire soluzioni in Europa per l'interesse dell'Italia. Questo significa che quello di Malta è un successo, stiamo parlando di un primo passo, perché poi troppe volte abbiamo detto è vivo, è vivo, soluzione, soluzione. È un primo passo importante, come è un primo passo importante. La Morgese aveva l'aria più pacata di tutti, è anche più preoccupata di tutti. È un ministro molto serio, il Viminale con la Morgese è tornato alla serietà, ed è un ministro molto serio che però sa che con l'Europa noi possiamo costruire soluzioni. L'avete visto anche un paio di settimane fa, quando l'Europa ha subito risposto presente rispetto alla ricollocazione dei migranti che arrivano in Italia. Quindi è un primo passo, è ad essere seri, è un primo passo. Noi le soluzioni le possiamo costruire con l'Europa, perché con l'Europa tuteliamo gli interessi del nostro paese. Con le ricette dei Salvini facciamo prima gli ungheresi, non prima gli italiani. Arrivo da Paragone.